Ciao ragazzi, sono GrandeDollaro e oggi siamo in un gioco nuovo Cerco di... No Non si rimpicciolisce la facecam, chiamiamola così E oggi siamo in barbaco, barbaco, barbaco Vabbè, così, io lo chiamo così, non so come lo chiamate bene E... Ho voluto fare questo video E... Non fate caso che c'è lui spagnolo Per chi... così Qua mi dai dettagli Ok, l'ho appena Perché non ce la facevo E... Ah Accede Ah, ok Terzo giorno Giusto che me lo dà Allora, duello di barbaco Barbaco E... Allora C'è uno Che si chiama Donald Trump Vabbè Battaglia Andiamo nella battaglia Sperate se muovo tanto ma... Ok, io sono... Questo qua, come vedete Wow Un super martello Wow Vabbè Se parlerò poco E perché mi starò concentrando E... Spero che mi comprendiate Come vedete Mi sono... Tagliati i capelli Ma non so se sei noto perché Se sono uguale al primo Vabbè Vabbè Fa lo stesso Ho questa... Oh, vado dal primo No Mi stanno uccidendo questo qua Metto lo scudo Oh Vabbè Raga Metto la facecam qua Eh Così almeno posso guardare la mappa Allora E... Nel video di FIFA L'ultimo che è uscito Sono riuscito A mettere una cosa dove... C'è... La... Il... Il logo del mio canale Dove... Ti puoi iscrivere lì Senza... Andare giù Trascinare giù E... Ho messo... Due... Schermine Così Per... Io... Ora... Ho comprato... Ho comprato... Grande parolona Ho... Scaricato... La schermata finale Schermata finale Di... Di quelle due cose Ragazzi se volete un tutorial Come si fa Se che... Se anche voi avete un canale Basta che mi lo dite Che vi faccio Il tutorial E vi faccio anche il tutorial Come... Come... Come editare Come... Come mettere le miniature Vi aiuto io Però basta che me lo scrivete qua sotto Se non me lo scrivete Non posso fare niente Se volete che vi aiuti Basta che mi scrivete in direct Grande... Dollaro In direct E... Non ce l'ho detto questo Ok qui c'è il mio compagno di squadra No... No... Facciamo sta partita Poi ne facciamo un'altra Poi... Si chiude il video Oh... Oh... Guarda... Questo è strano Scusate se esce il mio lito No... Scusate se il cellulare si muove tanto Ma... Ho deciso di cambiare cuffie Mi sono messo queste qua Perché... Quelle bianche Ormai... Mi sono un po' stufato Di metterle tutti i giorni Quindi... Però... Per oggi... Io non so per quanto Le terrò cambiate con me No... Un team... Un team da due... Così... Sono buggati... Vieni colpisci mi ora... Colpisci mi... Ehm... Amore... Ok... Mi ha dato il suo loot... Il suo loot... Luttoso... La facecam... Boh... Mi prende... Oh... Guarda... Oh... Oh... Non... Ti può prendere... Te l'ho ucciso io quello lì Tanto guardate... I... Quella specie di funghetto che mi... Segue... È il mio animaletto... È il mio animaletto domestico... Muore... Oh... Guarda... Mi voleva tirare la cosa... Il miele... Per farmi cadere a terra... Scusa... Non si vede la prossima volta che faccio... Un video... Di questo gioco... Farò... Leverò la facecam... Si... C'è altro modo... Guarda... Guarda... Quanto loot... No... Vieni... Colpisci mi di una cosa il coraggio... Siamo arrivati... Terzi in classifica... Però... Il nostro team è arrivato... Primo... Termina... Io... Come vedete... Sono... Lega... Oro... Perché ci gioco un po'... Allora... Qui ti dice... No... Che non sono stato AFK... Quindi mi da più... 5 punti... Poi... Mi da... Bonus... Della vittoria... E ora... Allora... Poi di nuovo alla home... Ah... Ok... Una chiave... Comunque le chiavi io posso... Aprire il tesoro... E mi danno una cosa... Random... Ah... Devo cliccare... Mi hanno dato qualche premio... Sì... Ah... Prima vittoria del giorno... Ok... Grazie... Anche se non sono arrivato prima... Fa lo stesso... Siete minuti... Ehm... Cos'altro facciamo... Ehm... Ehm... Non vi spoilerò niente... Perché... Ho scoperto una cosa in... FIFA mobile... Molto molto bella... Che se ci arriviamo... Fogniamo tutti... Cioè... Con quel giocatore... Fortissimo... Devo dire che l'altro giorno... L'ho anche sconfitto... Guarda... Allora... E mi ha sbloccato anche... Nuove campagne... Sapete già di cosa sto parlando... Una roba... Uno versus... Uno... Qui devo pagare le gemme... Ecco perché ho... 102 gemme... Poi 80 di quelle cose... E... 5.000... 5.000... 5.000... Vabbè... Mi avrete capito... Ora... Dovevo solo aspettare che... Si carichi... Ok basta... Io non ho molta pazienza... 9 minuti... Ehm... Faccio un mission oscura... Boh... E... Ragazzi... Devo... Leverò la facecam... Per ora... Perché... Perché... Perché si... Vai... La levo... Ecco... Ora potrete vedere... Allora... Comincio... Pago solo 50... Potevo pagare anche 100... Ma io... In queste battaglie... Perdo sempre... Quindi meglio di no... Non voglio sprecare i miei... Bei... Big money... Però... Grandi... 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 Perché... Big big money... Allora... Battaglia... Ok... Devo sopravvivere fino al finale... Però dipende da chi siamo in squadra noi... Ah... Andiamo dalla nostra compagna... Vediamo chi è... Speriamo che non sia... Un noob... Vabbè... Ha la skin da noob... Però... Spero che sia fu... Guarda questo qua... Un nemico... In questo gioco... C'ha questa skin... Si chiama Hulk... Hulk... No... Io lo frego io... Ah... No... 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 La cosa delle... Delle ombre... Delle... Delle ombre... Oh... No... Guardalo eh... Vieni qua... Vieni... Qua è continua... Eh... E' abbastanza fastidio amico Io vado da questo Ok loot per noi Tanto loot per noi Loot 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 per noi Tanto loot Ci mangiamo tutta sta carne Oh no 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 c'è un fantasma che mi segue Meglio che andiamo Da questa parte Il mio compagno è indietro Non posso andare da lui Ma non c'è anche a me E' bello Ok la zona è questa Eh si ok Allora V-Bucks Boah non c'è nessuno Intanto mi mangio già sto po' Ho visto passare qualcuno Vieni piccolino Guarda Oh quello di prima No 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 non è lui Abbiamo fatto male a scontrarci contro lui Vero No abbiamo fatto più che bene E ora No ti prego non morire Ragazzi sono morto Dov'è il pollo fritto Cosa c'entra scusa Boh E vabbè Ve l'ho detto che sono Faccio schifo E vabbè E vabbè ragazzi E vi ricordo di commentare Spolliciare Condividere E niente Ci becchiamo alla prossima All my heart 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 Grazie a tutti.